Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Lo so, state osservando il mio bellissimo cappello procione e vi state domandando dove posso comprarne otto, dodici? La risposta è questa, non potete, non potete perché è un cappello procione fatto a mano dalla mia amica Rossella che ha avuto il bellissimo pensiero di omaggiarmi di quest'opera per Natale. Io so che lei è convinta che io non lo indosserei mai in pubblico e per smentirla lo indosso qui davanti a voi 40.000, 50.000, 60.000, non lo so e davanti a tutti i miei dirimpettai, tutte le persone che in questo momento mi guardano parlare ad una macchina fotografica indossando questa roba che probabilmente stanno chiamando la neuro. Allora, ho notato ieri sera che su Amazon Prime Video hanno messo The Ride, questo film di arti marziali, con tantissime arti marziali in effetti, del quale vi ho parlato così di sfuggita un po' di tempo fa, ma non vi ho parlato del primo film, vi ho parlato del secondo, The Ride 2 B. Randall, che è un film con delle scene d'azione mozzafiato, bellissime, con dei combattimenti ancora più fighi rispetto al primo film, secondo me, ma che racconta una storia incomprensibile. Non si capisce un cazzo. The Ride e The Ride 2, sono collegati questi film, malissimo, sono collegati in maniera terrificante. Il primo film, che è il migliore, nel complesso è il migliore, ha una trama molto semplice. Una squadra di poliziotti, cazzuti, addestrati, armati fino ai denti, un bel giorno viene mandata a fare un ride in questa gigantesca palazzina nella quale sembra che risieda il cuore di un'organizzazione malavitosa. La struttura del film è la struttura di un film di Bruce Lee, o se vogliamo riferimenti un po' più moderni, è la struttura di un videogame picchiaduro, ovvero si sale di piano in piano e ad ogni piano che si riesce a conquistare c'è qualche stronzone più forte di quello del piano precedente. Quindi proprio livello di difficoltà crescente. Ricorda tantissimo quei film di Bruce Lee in cui lui da solo sgominava 70 esperti di arti marziali perché lui era Bruce Lee e gli altri non erano un cazzo. Di storia ce n'è veramente poca. I personaggi sono veramente poco approfonditi, cioè c'è quello un po' più neutro, c'è quello un po' più incazzoso, c'è quello che ha sempre i coglioni girati e sempre preso male, ma sostanzialmente sono veramente stralci di personalità che vengono fuori, non viene approfondito praticamente nessuno. Quello che dobbiamo sapere di questo The Ride è che tra questi poliziotti ce n'è uno che mena più degli altri e che si chiama Rama. Non Ranma, Rama. Questo Rama ci tiene più degli altri a tornare a casa sano e salvo da questo ride perché ha la moglietta incinta. E le cose si svolgono purtroppo in modo tale che quest'uomo perda presto le speranze di ritornare a casa dalla mogliettina perché sì, sono loro a fare il ride ma ben presto scoprono che questi stronzoni nel palazzo stanno facendo a loro volta un contro-ride ai poliziotti. Insomma, c'è un bel trappolone. A quanto pare il capoccia di questa palazzina malavitosa ha piazzato telecamere dappertutto e ha controllo totale su quello che succede nel palazzo il che dà pochissima possibilità di scampo agli agenti che si sono infiltrati che uno dopo l'altro verranno trucidati malamente, scamazzati e scapezzati. A un certo punto si smette di sparare. È proprio un tacito accordo tra te e il regista. È come se il regista venisse a casa tua, ti picchiettasse sulla spalla e ti dicesse ma se adesso facessimo che tutti quanti si danno pizze in faccia e non si usano più i fucili? E i combattimenti sono incredibili. Io non voglio farvi spoiler su quelli che sono poi gli avvenimenti veri e propri. Cioè, ci sono un po' di parti un po' più raccontate e meno picchiate, non fraintendetemi. Però il film si regge sulle splendide coreografie e sulla regia molto pulita, mai banale e soprattutto non stiamo parlando di un montaggio alla Michael Bay dove non capisci una sega, non stiamo parlando di inquadrature fuorvianti, sui sopraccigli, sui gomiti sfocati. L'azione è sempre ripresa in maniera magistralmente pulita e chiara e secondo me i film d'azione devono essere fatti così. L'unico problema di questo The Ride è che nel tentativo di offrire una narrazione adulta allo spettatore, secondo me ci sono fin troppi sottintesi nei dialoghi. Tutti i personaggi parlano come se lo spettatore dovesse dedurre qualsiasi aspetto legato ai retroscena, ma lo spettatore non ne sa una sega e quindi li senti dire delle frasone che suonano, no? Molto belle, molto adulte, molto malavitose, però tu stai là e fai sì ma ho capito ma che cazzo sta succedendo? Per fortuna è un problema che inficia soltanto la parte finale del film in cui vagamente si capisce che l'operazione è stata messa su da poliziotti corrotti, vagamente si capisce che uno di questi poliziotti stava cercando di entrare nel giro grosso, ma basta, cioè veramente non si capisce nulla di quelle che sono le meccaniche dietro questo Ride farlocco che tra l'altro non è stato realmente autorizzato dalla polizia. Bypassiamo sto fatto dei poliziotti corrotti perché non si è capito. Bypassiamolo, ci siamo guardati un'ora e mezza di ottime mazzate, abbiamo seguito le sottotrame un po' più ovvie, ci siamo fatti bombardare il cervello da ste fregnacce che non si capiscono, però buono, mi sono divertito, no? The Ride 2 parte esattamente da dove si interrompe The Ride e non si capisce una sega. Niente. Io ho visto The Ride 2 un paio d'anni dopo il primo, non ricordavo perfettamente il finale, non ricordavo i rapporti tra i personaggi, vi giuro, il film parte e io sono stato catapultato nel nulla cosmico, non ci ho capito un cazzo, nulla di nulla. La trama a grandi linee del secondo film è questa. Rama, dopo questa operazione, viene praticamente cooptato in una task force antisbirro corrotto che lo porta a condurre un'indagine parallela a quella della polizia in cui lui dovrà infiltrarsi in una sorta di yakuza indonesiana e nel far questo prenderà contatto con dei veri criminali, si farà amare, farà sì che il boss si fidi di lui e a un certo punto non si capisce più un cazzo, vi giuro non si capisce più niente. C'è un momento del film in cui io sono caduto dalle nuvole perché noi sappiamo che lui è un infiltrato, ok? Il problema è che questa task force antisbirro corrotto è talmente tanto segreta che a un certo punto pure gli sbirri, quelli veri, cominciano a menarli a questo. È una scena bellissima dentro una tavola calda con lui che spiaccica sbirri sulla piastra rovente, carina per carità, ma la verità è che ti mancano completamente tutti i rapporti di causa-effetto, cioè davvero ce n'è lui che va in giro per la strada, a un certo punto dei poliziotti iniziano a menarlo e io s'ho cascato proprio dal pero. Ho dovuto riguardarlo tre volte il film, tra l'altro l'ho fatto vedere anche a diversi amici chiedendo sono scemo io ragazzi, non ho capito un cazzo e tutti mi hanno detto la stessa cosa, cioè bellissime le botte, le botte sono eccezionali, ma non si capisce una sega. Veramente nulla, zero. E porto zero. Ottimi coreografi, un regista che sa come riprendere le arti marziali, ma che ha voluto a tutti i costi raccontarci delle storie complicate non essendone in grado. E questo è il problema grosso di The Ride 2 e The Ride. Peccato, peccato perché sarebbero veramente due gioielli dell'azione. Oddio, forse sono ancora due gioielli dell'azione, ma non sono due bei pezzi di cinema, perché l'uno in maniera un po' minore, ma il secondo in maniera quasi criminosa, anche dall'alto di una durata veramente spropositata per un film d'azione, non riescono a centrare il punto a livello narrativo. Comunque, se vi piacciono le botte, se vi piacciono le mazzate, le arti marziali, credo che questi film siano per voi. Gli artisti marziali che ci lavorano usano un'arte marziale che si chiama Silat, correggetemi se sbaglio, ed è particolare, i movimenti sono particolari, è molto frenetico come stile di combattimento, quindi è neanche il più semplice del mondo da riprendere in maniera corretta e pulita, invece tutti i combattimenti sono assolutamente leggibili, non c'è mai una sequenza confusa, come dicevo prima, è tanta roba. Il regista adotta una tecnica particolare, non usa gli storyboard, lui fa così. Siccome si affida molto agli artisti marziali con cui lavora, li mette a preparare queste coreografie e quindi la prima fase dei combattimenti nasce proprio grazie alle sue indicazioni di massima, più queste prove, queste esercitazioni degli artisti marziali che piano piano costruiscono questi combattimenti molto articolati in realtà. A quel punto, quando il combattimento è quasi completo, quando la coreografia comincia a prendere corpo, il regista si presenta in palestra portando dietro una camerina di merda, una videocamerina di merda, e riprende questa coreografia 10, 15, 20 volte, tutte le volte che gli artisti provano. Con queste registrazioni in mano, lui poi a casa fa un montaggio preliminare. Quando trova la sequenza che più lo aggrada a livello di montaggio, a quel punto sa da che angolazione andare a girare determinati colpi, determinati scambi. E questo è come se fosse una sorta di storyboard video che si fa a lui. È un sistema molto molto intelligente che credo prima o poi gli inculerò, non per fare scene di combattimento, ma per realizzare in generale sequenze d'azione preparate. Fatemi sapere se avete capito qualche cazzo di The Ride 2, perché sareste le prime persone a dirmi fino a ora il film si capisce, ma io credo che anche voi resterete allibiti, anche perché spoiler, a un certo punto resterete stupefatti dall'avvenuta di uno zombie.